E' chiaro che per sentire la risposta del Sindaco Cassi avremmo dovuto intervistarlo dopo questa conferenza stampa. Oggi c'è il Consiglio Comunale, siamo al 27 dicembre, generalmente i Consigli Comunali vanno a riposo, però ci sono alcune cose importanti, per esempio stabilire come utilizzare quei famosi 25 mila Euro di cui alcuni consiglieri e assessori si sono vantati di avere ottenuto con la collaborazione di Ignazio Abate. E quindi siccome sono arrivati alla fine, siccome li utilizziamo, li avevano già utilizzati, ma dovevano essere ratificati dal Consiglio Comunale. Quindi c'è stato questo Consiglio Comunale, molte pause e però dentro c'è stato un intervento di Bitetti, un intervento che direi anche abbastanza corposo ed interessante, un intervento che fa riferimento alla Università di Ragusa. Allora sentiamone un pezzetto e poi vi spiego cosa volevi dire.